Salve signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di pantaloni o calzoni. E avete visto? Niente chiodi che infastidiscono. I pantaloni hanno un'origine molto antica, li fecero conoscere i barbari, quindi le popolazioni del nord, ai romani e ai greci, che all'epoca non usavano queste coperture tubolari per le gambe, ma avevano quelle che oggi definiremmo gonne, ma non lo sono affatto, ma erano queste tuniche che venivano adornate, a volte anche in battaglia, con del cuoio o delle parti metalliche. In questo video prenderemo in considerazione solamente i pantaloni lunghi, quindi tralasciando quelli che sono i bermuda, quelli un pochino più corti. Prendiamo i pantaloni da tutti i giorni, quelli da abito, e vediamo di parlarne, cercare di capire quali modelli, se dicono di più, per ogni singolo uomo, e vediamo di trovare delle informazioni, insieme ovviamente, che ci permetteranno poi di andare a scegliere il pantalone più adatto alla nostra figura, a voi un po' per l'altezza, per corporatura o per la lunghezza della gamba. Alla fine di questo video avremo abbastanza informazioni da riuscire a capire a colpo d'occhio, davanti a uno specchio, mentre stiamo provando il pantalone, se quello è il pantalone che fa per noi, oppure dobbiamo guardare altrove. Vi dico subito di evitare di... pantaloni troppo fascianti, pantaloni troppo stretti, adesso vanno un po' di moda fra chi di noi è molto giovane, non cerchiamo di scegliere quel pantalone magari skinny o comunque molto fasciante, quasi come se fosse una seconda pelle, cerchiamo di scegliere il pantalone in base a quello che è la sua eleganza, a come casca e poi vedremo anche nello specifico come deve essere tagliato e quanto deve essere lungo il pantalone, perché quando compriamo un pantalone in un grande magazzino, in un supermercato, non è detto che quello abbia la lunghezza, molte marche lasciano la lunghezza del pantalone un pochino abbondante, perché poi ognuno di noi dovrebbe in teoria andare dal sarto e farselo accorciare. Il pantalone di qualità ha sicuramente determinati dettagli che devono essere notati, come le tasche molto resistenti, la parte della cintura foderata per eventuali modifiche per quello che riguarda la circonferenza e la parte posteriore del pantalone che dovrebbe cadere sulla scarpa dovrebbe essere foderata per evitarne in primo luogo l'usura e secondo per tenerlo dritto che caschi a piombo, si dice, sulla nostra scarpa. Ovviamente quando andremo a scegliere il nostro pantalone cercheremo di andarci con le scarpe a cui vogliamo abbinare quel determinato tipo di pantalone, perché sicuramente un tacco un pochino meno arrogante, quindi un po' più leggero, una suola più leggera, quindi meno accentuate, tenderanno a farci calare il pantalone anche di un buon centimetro. La parte inferiore, inoltre, del nostro pantalone, può avere un risvolto che può andare dai 3 ai 4 centimetri, dipendentemente dall'altezza dell'uomo che li deve portare. Questo risvolto non può essere presente in maniera assoluta su abiti, quindi tight, smoking, frac o abiti da cerimonia, diciamo così. E ovviamente come non deve essere presente sugli abiti da cerimonia, non deve essere presente neanche sugli abiti troppo casual. Immaginatevi un paio di pantaloni cargo con il risvolto o magari un paio di jeans con il risvolto. Le pesi invece sono una parte importante del pantalone che può esserci oppure no, dipendentemente dallo stile che abbiamo scelto. In Italia sono rivolte dall'esterno verso l'interno e si addicono i fisici più robusti perché i fisici più asciutti tenderebbero ad avere un effetto della gamba vuota, della gamba secca. Per un fisico più asciutto invece è chiaro che è meglio un pantalone dritto con tasche a filo e all'inglese, insomma. Io vi consiglio di spendere un po' di tempo nella scelta del pantalone perché per esperienza personale vi posso garantire che quello che è il tempo che si investe alla scelta del pantalone nel lungo tempo ci permette anche di usarlo fino a 4-5 volte di più rispetto a un pantalone preso in fretta perché avevamo bisogno del pantalone per quella determinata occasione. Ovviamente il pantalone se non ha il risvolto deve cadere facendo una piccola onda sulla parte anteriore della nostra scarpa mentre se ha il risvolto deve cadere dritto. Per quanto riguarda i colori, beh, ovvio che il grigio è quello che la fa un po' da padrone non andiamo su delle tinte molto scure cerchiamo di rimanere su una punta di grigio che è tra il chiaro e lo scuro perché avrà una versatilità maggiore rispetto a un pantalone nero che se dice di più ha un abito piuttosto che colori sgargianti che sono assolutamente da evitare a meno che non sono indossati in situazioni molto ma molto 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 informali. Una cosa importante va detta signori nonostante vi ho elencato le qualità all'inizio di questo video dei pantaloni anche se abbiamo le tasche rinforzate cerchiamo di preservarne l'usura nel senso che se inseriamo il portafogli o il cellulare che oggi stanno ritornando molto grossi rispetto a qualche anno fa nella tasca posteriore tenderà a rovinarsi e un pantalone rovinato, sfibrato e usurato non è sicuramente un pantalone che ci fa fare una bella figura per cui cerchiamo di utilizzare magari le tasche della giacca e lasciamo le tasche dei pantaloni per il fazzoletto magari in cotone se lo vogliamo tenere con noi perché non si sa mai può sempre essere utile e le tasche della giacca appunto usiamole per quello che metteremo nelle tasche posteriori quindi il portafogli, il cellulare e carte in genere che ci servono tutti i giorni. Ho fatto un video su questo canale che potete vedere magari ve lo lascio qua sotto nella descrizione che vi aiuterebbe notevolmente in questo caso magari decidiamo di avere un portacarte di credito o un portatessere o cose di questo genere quello che è molto sottile lo possiamo lasciare nella parte posteriore dei pantaloni a proposito delle tasche posteriori evitiamo le cerniere cioè il bottone richiede un pochino più di pazienza nell'aprirsi, nel chiudersi ma preferiamo e prediligiamo quello stile cioè andiamo sui bottoni piuttosto che sulle cerniere due parole sui calzoni estivi diciamo così io prediligo i bermuda non i calzoncini corti quindi quelli che arrivano praticamente nella zona del ginocchio non starei mai sopra il ginocchio e siccome la figuraccia è dietro l'angolo quando si prendono certe decisioni il mio suggerimento è quello di abbinarli anche con un paio di scarpe sportive ma fare particolare attenzione all'abbinamento io personalmente non sceglierei mai dei pantaloni corti nella remota possibilità che debba usare dei pantaloni corti scelgo sempre se ho dei pantaloni corti che si addicono a quell'occasione se non ce li ho piuttosto preferisco dei pantaloni in un tessuto molto leggero ma pantalone lungo perché comunque sono sempre attento a queste cose bene signori io direi che vi ho dato abbastanza informazioni non entro nelle qualità dei pantaloni quindi i chinos, i jeans, cose di questo genere anche i modelli magari a sigaretta, skinny, a vita bassa che vi prego no magari poi facciamo un video fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete approfondire l'argomento per adesso non mi rimane nient'altro da fare che ringraziarvi per essere arrivati fino a qui mi raccomando iscrivetevi al canale perché come vedete è molto interessante vi invito a guardare anche gli altri video che sono presenti nel canale e ci vediamo in un prossimo video arrivederci signori